Di Maio invece difende la decisione di presentare prima delle elezioni la lista dei ministri. Dopo essere andato al Quirinale ha inviato la lista dei ministri, anche via mail al capo dello Stato. Conviene che è il rituale? Perché insiste? Come risponde alle critiche che arrivano da destra e da sinistra? Tutti criticano la mia squadra di governo senza averla. Il massimo che sono stati in grado di individuare è Brunetta all'economia, Alfano agli esteri. Io non devo fare scambi di poltrone con nessuno e quindi voglio presentare agli italiani i ministri del nostro governo prima. E sono eccellenze del loro settore con una guida politica che sono io per la realizzazione del programma elettorale. Se riuscirete ad arrivare a Palazzo Chigi, quali saranno i primi provvedimenti da adottare? Sicuramente io non vedo l'ora di fare un consiglio dei ministri con tutti i ministri che domani presenterò a Roma al Salone delle Fontane per fare un primo provvedimento e andarci a riprendere 30 miliardi di euro di sprechi che ci sono nel bilancio dello Stato e che servono a foraggiare la politica e la pubblica amministrazione corrotta. Dobbiamo invece andarci a riprendere quei soldi e investirli nella sanità, nell'istruzione, nel welfare, nella pubblica amministrazione che funziona. Facciamo un'altra ipotesi. Non avrete la maggioranza di governo. Qual è la soluzione che prospettate per il Paese? Con i numeri che sto vedendo, PD e Forza Italia non possono più fare l'inciucio, quindi dovranno venire a parlare con noi. Di poltrone non se ne parla. Ho lanciato una proposta. Si impegnano a tagliare gli stipendi ai loro parlamentari, si impegnano a fare il vincolo di mandato contro i Volta Gabbana, si impegnano a fare misure per le famiglie che fanno figli come in Francia e allora potremo avviare la diciottesima legislatura e lavorare sui singoli provvedimenti. C'è un punto di convergenza con le altre forze politiche, con Leo De Sempio, Grasso fra l'altro oggi lancia un appello ai delusi del movimento, ai delusi anche del PD che hanno votato voi in passato. Chiede loro di tornare a sinistra. Secondo me è importante far capire a tutti che chi vota oggi il centrosinistra, che è già fuori dal gioco, dà un voto a Berlusconi. Nei collegi la battaglia sarà tra noi e il centrodestra, tra noi che vogliamo governare e loro che hanno governato per vent'anni e ci hanno ridotto il Paese così, rubando il futuro alla mia generazione. Nessuna convergenza nemmeno con la Lega? Io penso che questo sia un discorso prematuro, anche perché con il Dream Team che abbiamo presentato di ministri e che presenteremo domani, io credo che il movimento sia vicino per governare da solo.